Ciao mio amico aspirante trader, professionista e profittevole oggi è giovedì 22 novembre 2018 siamo nella settimana del black friday, la settimana del ringraziamento in usa e i volumi stanno calando bene, ma noi portiamo a casa lo stesso il nostro profitto quotidiano allora, questa è la sessione pitusa di ieri come vedi il mercato è andato a rialzo e poi nel tardo pomeriggio americano, tarda serata italiana il mercato è andato a rompere i minimi, creando questa linea con la norma 100 tratteggiata ad un importante livello per la sessione di oggi come vedi il market profile della sessione notturna, della sessione overnight è andato così, la sessione asiatica è rimasta in questo range per poi andare a ribasso la sessione londinese è andata a ribasso e abbiamo aperto di nuovo anche oggi in un gap, va bene, in un gap down praticamente il nodo di bassi volumi di questa linea color ciriano l'ho preso dal market profile overnight e non essendoci di livelli importanti per entrare short in gap down mi sono appoggiato, appellato alla madonna no scherzo, ti farò vedere l'idea di questo trade dove è venuta anche perché quando ci sono pochi volumi così bisogna tu davvero ti appelli alla madonna se non hai poteri divini per tradare bene, questo è il minimo overnight questo è il massimo overnight come vedi c'è un doppio massimo va bene, entrambi la sessione asiatica e la sessione londinese e niente, lascio a dimostrare cosa ho fatto allora, siamo alle 16.10 quindi è passata, come vedi, la prima mezz'ora e il mercato è stato solo in questo piccolo range battendo sulla media esponenziale nel futile 30 minuti bene, io sono entrato short quando ho visto questo sequenzial decline, questi due grossi ordini di vendita e sono entrato alla rottura di questo livello qua va bene, proprio come vedi questo cumulativo serie di COT a 30 minuti della sessione oggi, della prima sessione a 30 minuti della sessione pittusa e delle ultime due o tre candele della sessione overnight a 30 minuti bene, io sono entrato qua con un contratto solo perché, come vedi il mercato nei primi 30 minuti è rimasto veramente fermo fermo, per tutto il suo tempo è rimasto fermo in questo piccolo range il mio target era sul minimo di questo swing della sessione overnight, è alle 12 bene, come sono entrato, come vedi sono entrato alle 16.10 come vedi, sono entrato, il mercato è stato a 35 minuti ma poi è iniziato a partire a ribasso stampando grossi ordini di vendita il mercato è continuato a scendere come vedi, è continuato a scendere questo è il fut, quindi a 30 minuti come vedi, il mio target era proprio su questo livello qui il mercato mi ha preso il target uscendo, come vedi, ci sono grossi ordini di vendita che sono iniziato ad entrare e poi il mercato è continuato a scendere e ha continuato a scendere ma poi ci importa, quello che ci importa è il nostro profitto quotidiano bene, ti faccio vedere dove è venuta l'idea perché non mi sono appellato la madonna non mi sono appellato la mia capacità divine grazie alla mia diversificazione per 3 mi ha fatto vedere con un colpo d'occhio la divergenza che si è creata come vedi sul grafico a 1 minuto qua questa è la divergenza dei prezzi e questa è la divergenza sul CCI bene, io sono entrato, come vedi, qui leggermente in ritardo di un paio di tic perché era da entrare la rottura qua in prossimità della media esponenziale e come vedi il mercato poi è arrivato a prendere fino a minimo overnight ma poco ci importa sono uscito qui con i miei 160 dollari di profitto quindi sono sopra 100 dollari al giorno e quindi per sessione ho raggiunto il mio profitto se anche tu puoi tradare in questo modo fare meglio di me nel mercato dei fuggi e delle azioni e delle opzioni allora caramelo scrivi la vostra adesso e mandamela il link sotto a questo video io te lo prometto ti rimontrerò e vedremo se possiamo andare insieme nella mia fantastica giossificazione per 3 che ti aiuterà per certo a diventare un trade professionalista e profittevole nel mercato dei fuggi e delle azioni e delle opzioni ciao ad almighty e ti auguro grossi e grazie su questi profitti alla prossima sessione di trading ciao e ci vediamo domani al prossimo 3 profittevole